Uno speciale permesso di ben quattro settimane che la Corte Suprema di Nuova Deli ha concesso a Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. I due marò detenuti in India così si apprestano a tornare nuovamente in Italia per poter esprimere il loro voto in vista della tornata elettorale di domenica e lunedì. La decisione dei giudici indiani è arrivata a margine dell'intervento diplomatico italiano. L'ambasciatore Daniele Mancini con una lettera si è infatti impegnato ad assicurare il ritorno dei due italiani seguendo un iter burocratico simile a quello intrapreso lo scorso Natale quando Girone e la Torre trascorsero le festività in famiglia. Lo che dall'India è arrivato però in extremis a causa dello smarrimento dei passaporti dei fucilieri spediti in Italia già a gennaio ma per intoppi di natura burocratica ancora in tramite. Per questo il Ministero ha dato mandato all'ambasciata italiana di compilare degli speciali documenti provvisori. L'arrivo dei due marò è previsto nella giornata di sabato all'aeroporto militare di Brindisi. Da lì faranno ritorno nelle loro abitazioni e dopo aver riabbracciato i familiari potranno recarsi nei seggi e votare. Grande soddisfazione quella espressa dal Ministro degli Esteri Giulio Terzi che ha giudicato questo ultimo sviluppo della vicenda come molto positivo perché consentirà ai nostri due ragazzi di esercitare il loro diritto di voto e di trascorrere quattro settimane con i loro familiari in Italia ma anche perché, ha proseguito il Ministro, la decisione di oggi conferma il clima di fiducia e collaborazione con le autorità indiane e lascia ben sperare per un positivo esito della vicenda.